Buonasera, guardate cosa stava mangiando questa bambina lo scopriremo dopo la Sticca! Dillo più alta voce! Sticca! Ok! Eccoci qua, siamo da Sardelli a Livorno, Sofia sta mangiando un panino con la Nutella, un gornetto dove c'è un chilo di Nutella e se lo sta mangiando tutto, no problem! Come avete potuto vedere, com'è? E' buono, certo, certo, va bene! Siamo andati alla Uni Euro a fare il Black Friday e ci siamo comprati il televisore! Volete dire qualche cosa? Cosa voglio dire? Come è il televisore che c'è un po' più bello! Però non è ancora arrivato, arriverà domani sera! Vuoi dire qualche cosa? Ciao! Saluta a tutti! Ciao! Adora ci siamo spostati dalla Pizzeria e Sofia che cosa stai aspettando? Che pizza hai scelto? Quale pizza hai scelto? Salsa! Ma con la salsa? La capricciosa! Ma quale pizza hai scelto? Capricciosa! Perché la capricciosa vuoi? Perché vuoi la capricciosa? Perché ci sono le? Deve facciamo molto fuso davanti alle olive, esatto! Ah, i carciofi! Certo! I bambini mangiano sempre i carciofi! Certo! Certo! Sì! E quindi vi lasciamo in attesa della pizza e dopo vi faremo vedere cosa si mangia a Sofia! Perchè hai due franchezze te, scusa? Perchè ho fanno l'inghia. Vabbè. Fia, cosa stai mangiando? Caccia. Caccia. Eccoci, grazie. E questo è lo yumus con le verdure. Vediamo se se lo mangia anche Sofia. Mangi di brodo. La carota. La carota se la mangi. La carota. Vediamo. Yumus con carota. Vediamo se Sofia se lo mangia e le piace. La chiesa è un agliotto posto. Dai il morto. Com'è? Com'è, buono? Sibilla. Io, io, io. Tutto a posto. Tutto a posto. Prova superata. Sibilla. Ripeti. Vai. Guarda, fai. Sibilla. Buonasera. Tu chi sei? Sibilla. Sibilla. Chi sei? Sibilla. Signora Sibilla, ma mi fa una, mi legge una carta, per favore? Prendi una carta. Prendi una carta? Leggiamo una carta. Vedi. Amore. Vedi sì, è uscito l'amore. Che cosa è uscito? Che cosa è uscito? L'amore. La leggerezza, esattamente. Senta, signora Sibilla, ma dov'è il suo anello? Me lo faccia vedere, me lo faccia vedere. Oh, che bell'anello. Gira l'anello, farlo vedere. Senta, ma mi legge il futuro, signora Sibilla? Che cosa succederà domani? Ci dica. Domani mangeremo o no? Domani si mangia? Sì, cosa mangeremo? Cos'è vero? L'acqua. Cosa mangeremo? L'acqua. L'acqua? Ma l'acqua si beve? Mamma mia. Sì, ma la Sibilla, l'acqua si beve. Ma mi trovo qualcosa da mangiare. Mangeremo o no domani? Vedo nelle sue carte. Vedo nelle sue carte. Metta gli occhiali, se no non ci vede bene. Metta gli occhiali. Vedo se nelle sue carte ci sono le... Vedo un po'. Metta gli occhiali. Vedo se nelle sue carte domani si mangia. Legga, legga. Si mangia domani? Prenda la carta. Veda, si mangia. Prenda la carta. Mi raccomando signora Sibilla, siamo preoccupati. Si mangia domani? Vediamo. Cosa dice la carta? Faccia vedere la telecamera. Giriamo, giriamo. La carta si mangia? E questa? Eh, giriamo. Non si mangia? Vediamo. La vecchia signora, esattamente. Eh, col turbante del pomero. Uguale, proprio a lei. Questa. Bravo, bravissimo. Lui? Il mio fidanzato? No. No? E chi è lui? No. Sì. Chi è? Fatto. È fatto? È fatto. Allora salutiamo a tutta la faccia d'ascolto. Saluta. Saluta. Metti gli occhiari, ci sentiamo. Alla prossima volta, dici. Ciao. E dici anche pussente e mondiale. Pussente e mondiale, dici. Pussente e mondiale. Ciao a tutti. Una degna erede del trono. Ciao a tutti. Diciamo che l'abbiamo comprata per un pezzo di cioccolata. Per un pezzo di cioccolata si pari con quel teatro. La nuova Sibilla. Dici ciao. Ciao. Ma che stai facendo? Cosa stai facendo? Cosa stai mangiando? Questo cioccolato. Cioccolato? Ma com'è questo cioccolato? Com'è questo cioccolato? Ora. Com'è? Ora. Pussente e mondiale. Com'è? Com'è? Pussente e mondiale. Pussente e mondiale. Esattamente. Proprio uguale. Proprio riminesissima. Scusa ma dove abiti tu? Per i miei. Eh, gioco. Esattamente. Vabbè. Salutiamo il pubblico e diciamo ci vediamo domani per un altro video. Ciao a tutti. Domani. Un altro domani. Ciao. Buonanotte. Buonanotte. Per oggi è tutto. No, di no. Ancattalo. Sì. Sì.